Lui fa colore di buono, ma se facciamo così, guarda, allontanate, allontanate, allontanate. Lui fa colore di buono, ma se facciamo così, guarda, allontanate, allontanate. La prima volta è una cosa più difficile. Addominare con una persona. Chiudi, vedi, vedi, vedi. Ecco, questo qua devi comandare. E questa è la comanda. Il vaccino poi, il vaccino poi dovrò fare. Adesso lo fa. Ti serve per non subire. Cos'ha? Per non subire? Controli. E voi da qua, lo volete, si buttare per terra, si sbilanciare, si proiettare. Spingi forte. Non dalla mano. Io non devo andare a cercare la mano qua. Non devo cercare la mano, troppo distante. Spingo il gomito. Anzi qua, se mi cerco la mano, attacca due freddi qua. Mettiamolo sul collo. Guarda, da questa posizione qua, guarda, dal gomito. Guarda, da questa posizione. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Sono qui in Roma. Trazione al Hangman. Un club fantastico. Lo piace molto molto. Brani sono contenti. Sì!